Mercato in fermento a Barletta. Dopo gli arrivi di due pezzi da 90 come lo Iodice e l'Attanzio, i biancorossi mettono a segno tre riconferme importanti. Marangi, vice domini e soprattutto Antonio Pignataro. L'attaccante che ha rifiutato diverse destinazioni per sposare la causa Barletta nel pieno della sua maturità calcistica decide di mettersi alla prova in Serie D dopo aver dominato per anni in eccellenza. Le novità però non finiscono qui perché la dirigenza biancorossa ha già chiuso un'altra operazione in entrata. Ezequiel Zaldua nell'ultima stagione al Trinitapoli sarà il backup naturale di Pignataro. Primi movimenti anche a Casarano che prima di gettarsi a capofitto sul mercato ha un nuovo direttore sportivo, l'ex taranto Francesco Montervino e un nuovo tecnico Giovanni Costantino. Giorni caldi invece a Molfetta dopo le firme di Lorenzo Longo e Ciro Coratella ecco l'attaccante classe 97 Giuseppe Tedesco. Prende forma intanto la Rosa del Bitonto. Il ritorno di Loris Palazzo alla sua terza esperienza in neroverde ha infiammato la piazza mentre gli arrivi di Giuseppe Ciafardini e dell'attaccante ex nola Simone Figliolia sono pienamente in linea con gli obiettivi stagionali. Il Bitonto infatti cercherà di raggiungere quanto prima la quota salvezza per alzare successivamente l'asticella delle ambizioni. Il Gravina infine punta sul fattore continuità con le riconferme di Mascolo, Carmo, Tommasone, Ciacon e Tuninetti.